Ehi, oggi vi voglio parlare di tutti quanti i libri che ho acquistato dall'ultima volta in cui vi ho raccontato che libri avevo acquistato Ovviamente io stavo lavorando nel periodo in cui ho comprato tutti quanti questi libri, quindi potevo permettermelo Adesso non lavoro più e quindi non posso più permettermi tutti quanti questi acquisti Ma andiamo subito a parlarne perché ho quattro pile intere, sono tanti e andiamo La trilogia di The Diviners di Liba Bray che è composta da The Diviners, il primo, Laid of Dreams, il secondo e Before the Devil Breaks You, giusto? Sì, che è il terzo libro Io pensavo che questa qui fosse una trilogia, quando l'ho acquistata, quando ne sentivo parlare, era una trilogia E poi ho letto il terzo e puff, non è una trilogia e non ho idea di quando uscirà il quarto Poi, cosa ancora più fastidiosa, io ho comprato tutti quanti questi libri da Book Depository E potete notare che non sono della stessa edizione, no? Io non me ne sono accorta finché non mi sono arrivati a casa Questi qua mi arrivavano dall'Australia E quindi non potevo certo farmeli cambiare La cosa che dovrò fare è andare in Australia, mi sembra il motivo giusto per decidere di andare in Australia, no? Devo andare a comprare un libro perché non lo trovo su internet Faremo un gioco oggi, vediamo in quanto tempo mi cadranno, visto che ho intenzione di impinarli dietro di me Ah, che poi tra l'altro, io voglio fare un'altra sfida oggi, mi stavo dimenticando Voglio contare quanti libri ho letto e quanti libri non ho letto di questo haul che vi sto facendo vedere Voglio vedere qual è la proporzione tra libri letti e libri non letti di quelli che ho comprato Quanti ne devo ancora leggere? Se li ho comprati dopo averli letti? Non lo so, storie di questo tipo, queste statistiche, queste cose mi piacciono E... boh, vediamo Ho comprato una duologia di Cassie West che è quella di Pivot Point e Split Second Di questo vi ho parlato nel wrap up della Magical Ridaton dell'anno scorso Dopodiché ho acquistato tutta la serie di Throne of Glass di Sarah J. Maas L'ho acquistata ovviamente nell'edizione bianca inglese perché mi piace tantissimo L'unico che non ho acquistato è il sesto perché non ha la stessa copertina bianca E mi dà fastidio Throne of Glass ve l'ho fatto vedere Di Kingdom of Glass devo anche dirvi che l'ho acquistato due volte perché sono un genio No, non l'ho acquistato per errore due volte ma io ho acquistato questo preordinandolo da IBS Non avevo mai fatto un acquisto su IBS e quindi non sapevo o non immaginavo che sarebbe capitato a me ancora Non ho visto se fanno sempre così o meno Me molto stupidamente ha pensato che se lo sto preordinando è per averlo il giorno che esce Non per aspettare una settimana che mi arrivi Cioè se volevo aspettare andavo in libreria, no? Non posso aspettare una settimana per leggerlo E se avete letto Empire of Storm sapete di che cosa sto parlando Quindi mi sono comprata l'ebook E quindi mi sono letta l'ebook in un giorno e mezzo E quindi quando è arrivato l'ho riletto Perché sono extra Poi ho acquistato The Kiss Quotient di Ellen Huang Ve ne ho già parlato nel video sui romance Dovete leggerlo assolutamente Anche perché il mese prossimo esce il secondo libro di questa serie Non vedo l'ora Ho comprato i numeri che mi rimanevano Mi mancavano? Vabbè I numeri che mi mancavano di Monster di Urasawa E quindi ho comprato 4, 5, 6, 7, 8, 9 Al momento io sono arrivata a leggere fino al quarto Quindi mi mancano 5, 6, 7, 8 e 9 Ho comprato l'intera trilogia di Mara Dyer Di, come ti chiamavi, Michelle Hodkin Che è composta da The Unbecoming of Mara Dyer The Evolution of Mara Dyer The Retribution of Mara Dyer Sta uscendo anche la, credo, trilogia a questo punto Di Noah Che è il, diciamo, protagonista maschile Ma in realtà Ma non l'ho ancora né letta né acquistata E quindi aspetterà In ogni caso Anche di questo Ve ne ho parlato nel wrap up Della Magica Ridaton dell'anno scorso E se volete sapere qualcosa in più Andate a vedere quello Questo è un libro che ho comprato da Libraccio La versione del Libraccio Con i libri a massimo 2 euro Che c'è qua a Milano Non so se ci sia in tutta Italia, onestamente Era la prima volta che la vedevo E sono ben felice della sua esistenza Lì dentro Buona parte dei libri che io ho mai acquistato lì dentro Erano danneggiati in qualche modo Ed era quello il motivo per cui costavano così poco E uno di quelli è Shiver di Maggie Stivoter Che come potete vedere Si sono rotte queste Questi pezzettini di carta Che quando uniti Dovevano essere delle unghiate di un lupo su un cuore Perché è una storia di vampiri Vampiri, cosa sto dicendo di lupi mannari E questo è quello che mi ha fatto ritornare l'amore per i lupi mannari E mi ha fatto ricordare che io amo i lupi mannari Perché non sto leggendo i lupi mannari? Quindi grazie Maggie Stivoter Ho comprato il secondo volume nella serie di Princess Diaries Di Meg Cabot Anche questo l'ho già letto È molto carino Ma credo che il resto della serie mi potrebbe spezzare il cuoricino Perché io ho una ship in mente E non sono sicura se questa ship sia quella giusta da avere in mente Uno dei primi libri che ho letto in inglese mi ha fatto capire di avere un livello abbastanza buono Per potermi permettere di leggere in inglese È Simon vs the One Sapiens Agenda di Becky Albertalli Ve lo consiglio tantissimo se anche voi siete un pochettino indecisi su quale sia il vostro livello di inglese Credo che sia perfetto per farvelo capire Ed è anche bellissimo Hanno fatto anche un film che non ho ancora visto Ma in ogni caso è troppo bello Dovete leggerlo Allora, poi ho acquistato una trilogia manga Che si chiama Yatamomo E sono volume 1, volume... Questo è il 3, vabbè E volume 2 Ammetto di averli acquistati solo per le copertine Ho uno strano déjà vu E forse ve ne ho già parlato Ma in ogni caso ve li rifaccio vedere perché non fa male Poi mi sono recuperata attraverso ebay Tutta la serie di otello di non mi ricordo più come ti chiami Satomi Kezawa È bellissimo Credo di avervene parlato sempre nel wrap up della Magica Ridaton Perché credo di ricordare bene Ovvero di averli usati per i nudes Che ero in Sardegna quando li ho letti E quindi era agosto E quindi se era agosto c'erano i nudes Adesso passiamo a quelli che sono i miei preferiti Smat Quelli che mi hanno fatto conoscere l'ok Ve ne parlerò in un video dedicato all'ok e ai romance con l'ok Iniziamo dalla serie principale E poi passiamo al resto Allora questa qui è la serie di Off Campus Dubito che YouTube mi dia problemi con queste cover Ma nel caso mi dispiace Abbiamo The Deal che è il numero uno The Mistake il secondo The Score il terzo Che è il mio preferito E The Goal Quattro giocatori di ok all'università È molto figo Sono tutti quanti che abitano nella stessa casa Poi da quella è partita una serie Pin off Che segue i giocatori più giovani della loro squadra Il primo è The Chase Ah sono tutti quanti D.L. Kennedy Segue come protagonista la sorella del protagonista di The Score Poi di questo ho comprato Cioè del secondo di questa serie The Risk Ho comprato l'audiobook Appena avrò dei soldi da spendere Comprerò la versione fisica L. Kennedy insieme a Serena Bowen Hanno scritto questa duologia con una relazione tra due ragazzi Il che è molto figo E non è assolutamente feticistica come cosa Cioè scritta bene ok E sono Him and Us Bellissima ve la consiglio tantissimo Spinoff della serie di Him and Us Abbiamo Good Boy and Stay Cambiando argomento Andiamo nel paranormale E ho letto una trilogia di Jennifer L. Armantrout È stata la prima che io abbia mai letto Delle sue opere mettiamola così Ed è la trilogia di The Dark Elements Dovrebbe essere sì Che è composta da White Hot Kiss Stone Cold Touch Every Last Breath Non mi ricordo se ne ho parlato da qualche parte Ma ve ne parlerò in un video delle trilogie È molto carina, ve la consiglio L'elemento paranormale A parte i demoni Ci sono i gargoyle Quando mai avete letto Dei fantasy paranormali Con dei gargoyle Io mai Altra trilogia che ho acquistato È la trilogia di Mary Pearson Che è la trilogia di The Remnant Chronicles Di cui il primo è The Kiss of Deception The Heart of Betrayal E Beauty of Darkness Di questi ho letto i primi due Devo ancora leggere il terzo Dei primi due Credo di averne parlato Sempre nel wrap up Della Magica Reader Poi ce n'è uno piccolino piccolino Ma che scalda il cuore Che è The Duchess Deal Di Tessadere Questo è l'unico libro Che io ho mai letto di Tessadere E non vedo l'ora di andare avanti Altra serie di stragi mass Che ho acquistato Nella sua interezza La trilogia di A Court of Thorns Roses E la novella Ho tenuto il cofanetto di questa perché Insomma Cioè Cioè Non mi viene Non ce la faccio Comunque questo A Court of Mist and Fury E A Court of Wings and Ruins Oh mamma la mia lingua Poi la novella è A Court of Frost and Starlight Questa l'ho letta per gli owls di quest'anno Vi prego babies non cadetes Poi ho due graphic novel Una è Monster Allergy volume 4 Che ho sempre letto per gli owls di quest'anno E poi Non cadermi E poi saga volume 1 Anche io ho provato a leggerlo Ok L'unico libro che mi è stato regalato questo Natale Nel cuore di Yamato di Akishima Zaki Non sapevo nemmeno della sua esistenza Credo che fosse l'unico libro di un autore giapponese Che mia zia ha visto in libreria E l'ha comprato Altro ordine su Book Depository E' stata la serie di The Name of the Wind Nel video in cui sceglievo la TBR per gli owls di quest'anno Ho fatto vedere un'altra versione di The Name of the Wind Che era quella che avevo comprato da Amazon Questa invece l'ho comprata da Book Depository Perché mi sembrava più figa Non lo so, mi piaceva di più Ed ero sicura Visto che ho dovuto iniziare a prendere il reghello E a contare i centimetri In modo che non stessi comprando ultratascabili eccetera Mi è arrivato ma è danneggiato Me ne sono fatta inviare un altro Che per il momento è ancora un mistero Se si è in buone condizioni o meno Visto che mia madre non me l'ha ancora spedito a Milano Sempre nello stesso ordine ho preso The Wise Man's Fear Che è quello che sto leggendo al momento E poi la novella che è The Slow Regard of Silent Things Sempre di Patrick Rothfuss Non vedo l'ora di leggerlo Anche le illustrazioni questo Sarà fighissimo Poi quando sono andata a Londra Ho comprato un unico libro Ovvero Children of Blood and Bone Adoro la copertina e tutto Però adesso Non so bene che cosa è successo Ma ci sono degli scandali Sul fatto che questo titolo Dovesse essere il titolo di un altro libro E che lei l'abbia rubato Un altro autore Però sono molto curiosa di leggerlo Quindi vedremo Questa mia amica mi ha regalato Questo libro che è The All The Bright Places Di Jennifer Neven Credo Qualche mese fa sono entrata in una brutta depressione E questo secondo lei Mi avrebbe dovuto aiutare Non l'ho ancora letto Ma adesso che mi sento un pochettino meglio Forse sarò in vena di leggere la storia Di una ragazza che impara a vivere Da un ragazzo che vuole morire Diciamo che qualche mese fa Non ero nel posto giusto mentale per leggerlo Ma credo che appena mi chiamerà Lo prenderò in mano E purtroppo mi è caduto del caffè Sopra questo libro Sono veramente molto triste Spinta dall'internet fondamentalmente Qualche mese fa mi sono comprata Final Empire di Brandon Sanderson E io non ho mai letto niente di Brandon Sanderson A quanto pare adesso c'è una grande riscoperta Di questo autore su YouTube Almeno YouTube Italia vedo Quindi sono ancora più interessata A iniziare questo libro E probabilmente sarà il prossimo fantasy Che leggerò Poi questo credo di averlo comprato Verso novembre Comunque prima di Natale Sicuro Ed è The Afterlife of Holy Chase Di Cynthia Hand E questo dovrebbe essere la storia di una ragazza Che muore e diventa il fantasma del Natale passato Sembra così interessante Ed è probabilmente uno dei pochi di cui so qualcosa Perché degli altri A meno che io non li abbia già letti Non so niente Li compro solo perché la gente ne parla Brutto vero? Ho comprato From Look of With Love Di Mariana Zapata E questo è il mio preferito per ora Di Mariana Zapata E se non l'avete letto dovete leggerlo Perché oh mio Dio Pattinatori sul ghiaccio Cani È un maiale C'è bisogno di altro Poi Questo è l'unico libro Di Penelope Douglas Che io ho acquistato Cioè di cui possiedo Una versione fisica Ed è Punk 57 Però questo è carinissimo Ovviamente sempre nello stile di Penelope Douglas È veramente Fottuto di cervello Ok? Poi ho comprato The Cruel Prince E The Wicked King Di Holly Black E Porca Non so Non dello stesso Possiamo dire che io non riesco a comprare libri online Ok? Dopo questi errori Possiamo dirlo Io non so comprare online Che palle Quindi mi dà fastidio che non siano la stessa edizione Sicuramente Aspetterò l'uscita del terzo in paperback E li comprò tutti insieme E questi due li regalerò a qualcuno O li porterò in biblioteca Yey! Ne parleremo sicuramente meglio in un video delle letture Perché questo non è il momento Arriviamo agli ultimi libri fisici Che ho acquistato Per festeggiare Il fatto che non ho più il lavoro Non la cosa giusta da fare Due li ho comprati da Amazon Marketplace Quindi Li ho pagati un terzo Rispetto al prezzo di copertina Uno era già scontato al 55-65% E uno l'ho pagato a prezzo pieno Ma vabbè Ho preso The Night Circus Di Erin Morgenstern E adoro questa copertina Odio questo formato Ma di nuovo Io non so comprare online A quanto pare Ho comprato Ready Player One Di Ernest Cline Un altro che è Della serie Non so acquistare online È The Once and Future King Di T.H. White Non vedo l'ora di leggerlo Odio questo formato L'unico libro che ho comprato A prezzo pieno Negli ultimi Sei mesi Diventerai adulto Quando perdonerai i tuoi genitori Di Gerard Salem Gerard Salem L'ho comprato solo per il titolo E per il fatto che dietro c'è scritto Che il protagonista Non si fa sentire dei genitori da sette anni E credo che gli scriva una lettera Per farsi perdonare E poi Io ho comprato anche degli e-books Allora Uno dei primi che ho acquistato è First and Then Di Emma Mills Poi ho comprato Friendzone Di non mi ricordo quale autore Di Anatomy of Jane E Di Anatomy of Us È una duologia Con tre punti di vista Formano una relazione poliamorosa È molto figo Poi Ho preso The Coincidence of Kelly And Kaiden E questo Non lo consiglio a nessuno Che sia in un momento di depressione Perché Oh mio Dio Mi sono mossa La giornata dopo Poi ho letto Persefony Cioè ho comprato Persefony Che c'era su Scribd E quindi mi sono mangiata le mani Perché ho speso mi pare 3,90 euro per quello E 3,90 euro per un e-book Non è molto Se stai lavorando Se non stai lavorando È tanto E visto che potevo Leggerlo su Scribd Pagando Quei 9 euro Al mese Poi mi sono comprata Sins and Needles Di Carina Hale E quello è molto carino Poi Mi sono comprata Il botto proprio Tutta La serie Dei libri che sono usciti Di Mercy Thompson Che è quella di cui vi parlavo Con il primo libro Chiamato Moon Cold Sono 11 libri Ho letto solo il primo Ho preso anche tutti quanti Quelli che sono usciti Del spin-off Di Alpha e Omega Che sono 5 Ho letto solo i primi due Poi Mi sono presa Dark Cover Di Non mi ricordo come si chiama J Di qualcosa Perché l'ha descritto come Twilight Se i vampiri fossero Dei guerrieri Non ho avuto bisogno Di sentire altro L'ho preso Questi erano tutti i libri Che io Ho comprato Negli ultimi due anni Credo che fosse Sono un po' Però Ripeto La spesa è stata ammortizzata Dal fatto che avevo Un'entrata fissa Sono entrata nei dettagli Di quasi nessuno di loro Perché Voglio parlarvene Bene In un video Delle letture Abbiamo notato Il fatto che non sono caduti Quindi Ho vinto con La mia conoscenza Della gravità Il totale sono 101 libri Tra ebook E non Ne ho letti 71 E Devo leggerne 30 Di questi Di questi 30 14 Sono i book E credo che siano tutti quanti Quelli della serie Dei Lupi Mannari Quella di Patricia Briggs Devo dire che sono veramente Contenta Di questo risultato Perché Se sono 71 A 30 Quante Come si fanno Le proporzioni Oh no Ecco perché venivo Rimandata in matematica Due E mezzo Sta Uno Se è giusto E io Ho appena inventato Sono un genio Incompreso Fatemi sapere se voi Avrete letto uno Di questi libri Se pensate che Questa cosa Sia stata troppo lunga E troppo tediosa Essendo così tanti Se avessi parlato Di tutti Almeno facendo L'introduzione Sarebbe venuto fuori Un qualcosa Di 50 minuti E No Non mi sembra il caso Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao